Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu piede sinistro può atterrare sulla linea, il tuo piede destro non ci può atterrare qua. Grazie a tutti. 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 ora che il sinistro lo stai facendo in giù ma quando avvenghi salvi non è dritta se non sali e ti metti più velocità quindi fai troppo lenti e fai troppo elevazione e fai giù molto bene e ti metti più velocità e ti metti più lanciare ok e salto dritto grazie 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 Grazie. 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 Grazie.